Una situazione penalizzante per utenti e lavoratori all'interno delle banche in Sicilia. L'abbiamo già denunciata all'Assemblea regionale siciliana, la quale ha approvato due mozioni, una della maggioranza e una dell'opposizione all'unanimità, per ribadire che le banche debbono ripristinare gli sportelli chiusi, non debbono chiudere altre agenzie nei comuni e che debbono assumere personale in Sicilia. Il personale è carente e quindi dobbiamo anche affermare che molte assunzioni sono state fatte nel contesto nazionale e principalmente al nord e pochissime qui nell'isola. Questa è una discriminazione bella e buona che non tolleriamo, c'è il fondo sull'occupazione che può essere sfruttato e che le banche facciano quello che non hanno fatto negli anni passati. Ma perché si sta arrivando a questo? Si sta arrivando a questo perché purtroppo negli anni passati sono scomparse gli istituti di credito siciliano, tutto è stato accentrato al nord, principalmente a Milano e ora ce la fanno pagare. Magari praticamente danno delle commesse all'estero e non li danno qui in Sicilia, quindi il personale viene sempre martoriato, molte persone vanno in esodo, anticipato, pensionamenti e tutto il resto non viene sostituito. Il rischio quale sarà? Il rischio sarà la desistificazione del territorio praticamente, in tanti comuni non ci sono più sportelli bancari, in circa 100 comuni in Sicilia non c'è uno sportello bancario, non c'è un banco, Matteo. I poveri vecchietti non sanno che cosa fare, prendono la pensione e debbono spostarsi decine di chilometri per poter utilizzare soldi. A questo punto è intervenuta pure l'Anci Sicilia, l'Associazione dei Comuni, per dire ciò che diciamo noi, cioè dire che è inammissibile che le banche chiudono gli sportelli nei comuni dove servono, dove danno un servizio sociale alle persone. Unicredit è un istituto che ha investito molto sul territorio, però sta chiudendo troppe agenzie. Per esempio nel centro storico di Palermo hanno chiuso l'ultimo in ordine di tempo, quella in corso di Vittorio Emanuele. Accade che i turisti, anche i commercianti, i semplici cittadini devono fare parecchie centinaia di metri per trovare uno sportello bancario. Questo è inammissibile. Dobbiamo cercare di perseguire meno l'utile economico, di seguire meno gli azionisti e pensare di più ai cittadini, alle persone anziane, alle persone che appunto hanno necessità di avere un presidio bancario.